Il nostro passaggio è breve, ma basta al padrone di casa per raccontarmi che le piantine vengono messe a dimora verso settembre, garantendo una prima raccolta di primizie verso Natale. È tra aprile e giugno però che l'orto esplode letteralmente di fragole. Ogni operatrice praticamente si segna il numero sulla vaschetta che la identifica con il codice produttore per avere la tracciabilità della persona che ha raccolto questa vaschetta. Gianni ha avuto davvero una bella idea per abbattere i costi. I clienti arrivano e una volta nell'orto colgono direttamente dalle piante i frutti di loro gradimento, scegliendo qua e là. Pesano e pagano con uno sconto per aver raccolto.